incontri fiorenzo e la stazione di servizio quando gli ho chiesto se potessi parlare della sua storia non è stato ostile ma mi ha detto se non scrivi il mio nome mi va bene perciò fiorenzo è un nome fittizio e questo articolo lo ha letto prima che fosse pubblicato aveva da pochi mesi la patente in quel giorno maledetto la gioia della gioventù la leggerezza di una giovane coppia di fidanzati e una sera estiva avevano appena cenato in pizzeria e la decisione era recarsi in collina per stare lontani da occhi indiscreti una breve sosta a un distributore delle sigarette ed è iniziato l'inferno due bande di criminali si sono incontrate per caso nella vicinissima stazione di servizio qualche parola di troppo e qualcuno ha aperto il fuoco fiorenzo dopo lo sbigottimento iniziale è scappato lungo una stradina e neanche un graffio la fidanzata invece e bella peggio fiorenzo poteva prendere diverse scelte quella sera dominò il terrore e corse con quanto fiato avesse in corpo quando gli spari terminarono e un'auto di una banda partì sgommando il silenzio calò attese una decina di minuti per poi piano piano tornare indietro convinto che la sua fidanzata fosse semplicemente scappata nell'altra stradina seduta per terra piangeva a singhiozzi travolta dal dolore e dalle emozioni erano bastati pochi minuti non solo colpita di striscio da un proiettile e una gamba ma due di una banda la videro la tirarono per un braccio dietro l'autolavaggio e la violentarono da quel giorno nella vita di fiorenzo oltre al senso di colpa mai risolto ci furono per anni l'alcol e la droga fino a quando la sua attuale compagna lo aiutò a ritrovare se stesso un lungo e complicato percorso in una comunità prima di trovare una sua indipendenza psicologica prima di quel terribile giorno non avevo neanche mai fumato uno spinello pensi che sia stata la causa dei difficili anni successivi ne ho parlato più volte con chi mi seguiva e anche se non è possibile individuare i motivi con precisione di sicuro sono stato condizionato dal senso di colpa quindi mi stai dicendo che avresti dovuto proteggere la tua fidanzata e non ci sei riuscito è stata una cosa più grande di me e di noi improvvisa che non mi ha lasciato il tempo di pensare invece quando l'ho lasciata qualche mese dopo ero lucido nella mia indifferenza come se avessi messo un muro dentro il mio cuore eri ancora sconvolto e forse ti mancò il coraggio di affrontare davvero i problemi non lo so in ogni caso non me lo sono mai perdonato ci convivo diciamo così fiorenzo ha cambiato città diverse volte per poi stabilirsi nel vicentino ha cambiato amicizie è un operaio e nel tempo libero aiuta un'associazione che è anche un centro di ascolto per donne che stanno vivendo relazioni interpersonali di prevaricazione e violenza ascoltando fiorenzo e la compagna il mio pensiero ha cercato di fare un passo indietro ho tentato di andare oltre le apparenze non sono sicuro di esserci riuscito e ci tenevo a condividere con voi la possibilità di porsi di fronte a una storia dolorosa e complessa lasciando a ognuno l'interpretazione morgan palmas